Sono tutti Aretini i pretendenti dell'azienda Cantarelli. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, al nome di Emiliano Rinaldi, che nei mesi scorsi aveva dichiarato apertamente il suo interesse all'acquisizione, si aggiungerebbero quelli di altri due pretendenti, Sartoria Toscana con sede a Rigutino e la Fintes di Arezzo assieme ad Artini e abbigliamento di San Giustino. Ad aver presentato manifestazioni di interesse non vincolanti per l'azienda, dunque tutte realtà del territorio. Le manifestazioni presentate in questa fase non hanno comunque alcun valore vincolante. Soltanto in un secondo momento i soggetti interessati all'acquisizione potranno farsi avanti con offerte vere e proprie. Il bando pubblicato a dicembre non specifica la base d'asta, ma stabilisce che 50 punti su 100 sono assegnati alla migliore offerta economica, 30 su 100 alle garanzie migliori sull'occupazione ed infine 20 su 100 al piano di rilancio ed ulteriori assunzioni. Intanto Cantarelli, in amministrazione straordinaria dal gennaio 2016, guidata dal commissario Leonardo Romalelli, ha proposto la sua collezione al Pitti Uomo. L'azienda con sede a Terontola attualmente conta 260 dipendenti, di cui quasi la metà incassa integrazione.